Ciao sono Samantha, ho 50 anni e oggi vi parlo della mia no makeup skincare routine filorga perché sto bene nella mia pelle anche senza trucco. Guardandomi allo specchio posso dire di aver trovato l'equilibrio tra coprire e scoprire. Io sono pronta, partiamo! Questo siero leggero ha un effetto tensore immediato sulle rughe e prepara la pelle allo step successivo. Che texture sensoriale! Il fluido rosa è il prodotto indispensabile, dona subito un incarnato uniforme, radioso e poi non va nelle pieghe perché non ha pigmenti. E ora completiamo il look. La nostra pelle è il miglior makeup che potremo indossare. Grazie a tutti!